Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come formattare e configurare al meglio un tablet, l'innovo ovviamente lo porteremo al ripristino di fabbrica, quindi in questo caso proprio come nuovo, ok? Quindi formatteremo un tablet completamente, cancellando qualsiasi cosa al suo interno e poi andremo anche a fare una configurazione. Ok, eccoci qua, ovviamente scusate per la scarsa qualità, non è che ho una buona webcam, ovviamente se vai sopra dove sta la luminosità, a fianco là c'è una rotella, quella rotellina è l'impostazione, quindi vai su quella rotella, vai nelle impostazioni, ok, scendi fino a giù, fino a trovare sistema, c'è pure una I in quel cerchio e a fianco c'è scritto sistema, ovviamente scusate ancora per la scarsa qualità, luminosità troppo alta, però fino in fondo troverete il sistema. Clicchiamo sul sistema, e ora c'è l'opzione di reimpostazione, ed eccolo là, opzioni di reimpostazione. Clicchiamo sopra, cancella tutti i dati, qualsiasi cosa, lo riportiamo al ripristino di fabbrica, proprio da come l'hai comprato, nuovo nuovo, cancella tutti i dati, cancellerà qualsiasi cosa salvata sul tuo tablet, ovviamente cancellerà anche il logging che avete fatto attraverso Google, quindi non cancellerà il vostro account Google, per cancellare l'account Google devi proprio cancellarlo sul sito di Google, quindi ovviamente cancellerai tutte le email, tutte le cose qua sopra, tutte le cose salvate sul tablet, lo formatti, e una volta fatto accetti tutto, e non ti resta che aspettare, ed eccolo qua. Esce l'enovame, aspetti che ne so, due o tre minuti, una volta aspettato, devi fare la configurazione, quindi la configurazione è proprio come l'hai comprato, quindi una volta tolto dalla scatola, lo accendi, poi cominci a fare la configurazione, metti il paese, il tuo nome, l'account, la wifi, tutte le cose che devi mettere, e poi esce fuori il tablet, ed eccolo qua, il tablet con tutte le cose che hai messo sopra, e non mi resta che aspettare. Ok, ci siamo, qui dice, hey, there, quindi mettiamo la nostra lingua, mettiamo, non si vede neanche perché troppa luminosità, vado a mettere la lingua italiano, italiano, metto Italia, e vado avanti, accetto tutto per utilizzare il tablet, connetti una rete, una rete wifi, questo lo facciamo dopo, quindi facciamo la configurazione offline, ovviamente se non hai la connessione rete collegata, non potrai mettere il tuo account google, e fare altre cose, quindi facciamo prima la configurazione del tablet, mettiamo tutto, poi mi tirò di mettere delle mie cose, quindi ho saltato la parte, di mettere un pin, di accettare alcune cose mie, e poi ho fatto la configurazione, ho completato così la configurazione, ed eccoci qua. Il tablet ora è come nuovo, questi sono i profili, si vede solo il mio profilo, avevo altri quattro profili qua sopra, ora c'è solamente il mio, uno solo, quindi siamo riusciti a formattare il tablet, configurarlo al meglio, proprio come l'hai comprato, al ripristino di fabbrica, quindi la formatazione è andata con successo, ok, siamo riusciti a formattare il tablet, abbiamo configurato al meglio il tablet, se questo video ti è stato utilissimo, come formattare un tablet al meglio, e configurarlo, grazie a tutti per questa versione, iscriviti, lascia like, e noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao.